E' un'ora solare quella che inizia oggi per la quale richiediamo la vostra attenzione elencando i particolari del nostro ricercato, molto ricercato, molto ricercato, è un anno che lo ricerchiamo. Allora è nato a domanico, provincia di Cosenza, 20 maggio 1971, studi in architettura presso l'università di Reggio Calabria, poi studi a corno al conservatorio, passione surclassata da quella per l'altre arte drammatica, bon uffici direbbero quelli che sanno parlare siciliano, non io, ma andiamo avanti. Ha frequentato la scuola di recitazione splendidamente, a Palmi si è trasferito a Napoli, ha formato la compagnia Rosso Tiziano, poi la compagnia Teatri del Sud, candidato ai Nasti d'Argento come miglior attore non protagonista, bravo eh, sapeste quanto è bravo, è proprio bravo, però è ricercato. Si fa chiamare l'ispettore capo Giuseppe Fazio, ed è qui a Lora Solare, e noi siamo tanto contenti, Peppino Mazzotta, ma tanto contenti, ma tanto, ma proprio tanto Peppino, tanto, tanto, tanto. Lo so, sono stata una pessima Fazio, perché parlando di un personaggio che tra gli altri ti rappresenta, sia chiaro perché abbiamo davanti a noi l'attore a 360 gradi, ma quella tua capacità di dire, bisognerebbe ricercare, tu puntualmente tiri fuori il foglietto. Sì, quello è Camilleri che si è inventato questa cosa per far capire bene il rapporto che c'è tra Fazio e Montalbano, quindi... Com'è Patisce del complesso dell'anagrafe? Sì, questa era la prima fase, diciamo, Fazio ha avuto la prima fase, il complesso dell'anagrafe, cioè quando riportava delle notizie era molto meticoloso, le riportava fino in fondo, nei minimi dettagli. Però le riportava sempre prima. E poi c'è avuto anche l'altro, che è quello del già fatto, cioè che anticipava in qualche modo le richieste che Montalbano... Con le nostre meravigliose autrici e redazione, con la nostra Natalia Castiglio, stavo pensando invece di chiederti gli ascolti di domani, nel senso, sa tutto prima, chiediamogli quanto faremo l'ascolto, tantissimo vi do questa notizia, vero io, perché Peppino Mazzotta, davvero, l'abbiamo cercato per un anno, ma non perché tu ti negassi, semplicemente perché è talmente tanto il tuo meraviglioso lavoro che ti abbiamo dovuto rincorrere. Arriviamo anche al tuo lavoro e perché quel pizzetto e perché quei baffi. Allora, quante somiglianze in un personaggio, resto ancora su Montalbano e sul grande Camilleri, in un personaggio che tu sei riuscito a far diventare proprio un pezzo di casa e di famiglia, insomma, questo Fazio è familiare. Sì, siamo un po' tutti famiglia, focolare per gli italiani, se no non si spiegherebbe perché anche le repliche fanno grandi ascolti, perché c'è questo desiderio di stare davanti al cammino, di sentire una cosa calorosa che ci fa stare bene. Per quanto riguarda il personaggio, sai, non capita quasi a nessun attore frequentare per 21 anni un personaggio, è un'esperienza che andrebbe, diciamo, studiata perché non capita spesso. Per cui adesso è come avere un parente, insomma, è come avere una persona cara che non riesci più a distinguere, per cui non sai dove comincia lui, dove finisci tu e viceversa. Ci siamo negli anni scambiati delle cose, lui me ne ha date alcune a me, io ne ho date altre a lui. Posso chiedere quali? Per esempio io non ero così, non lo sono ancora adesso, però non ero così metodico come Fazio, ero l'opposto, sono abbastanza confusionario, però piano piano frequentando Fazio ho cominciato a imparare, a gestire quanto un minimo le cose e al contrario a lui ho dato un po' di temperamento che all'inizio non aveva perché era molto, diciamo, ligio al dovere, punto e basta. Pacato, pacato, punto e basta. Allora, quando appunto per 21 anni si lavora in una bellissima opera di arte, com'è il commissario Montalbano, poi ci sono i momenti in cui si vengono a perdere degli elementi basilari e importantissimi. Tu hai scritto, si dice in termini tecnico, un post, secondo me era una pagina di poesia, su Andrea Camilleri, meravigliosa, hai parlato di una luna siciliana. Sì, è una cosa che era successa veramente, io in quel momento l'ho fatto di un viso. Che hai visto a fine giornata, nel senso che sei, hai cercato di andare in giro. Sì, 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 mi è capitato esattamente quello che ho scritto perché quando si perde qualcuno nei primi momenti non si realizza bene quello che è successo, però probabilmente in quel caso il mio corpo lo aveva registrato prima che la mia mente, per cui io mi sono trovata a vagare per la Sicilia con questa macchina senza sapere dove stessi andando, perché effettivamente stavo metabolizzando inconsciamente questa perdita. Questa grande perdita, perché Andrea Camilleri, quindi stiamo parlando di una meraviglia. Alberto Sironi che viene a mancare poco dopo, e voi questa grande famiglia di Montalbano, mi permetti anche di citare Marcello Perracchio, il meraviglioso dottor Pasquano. 20 anni sono un pezzo importante e corposo per la vita, quindi in 20 anni non abbiamo avuto matrimoni, battesimi, funerali, tutto quello che c'è in una vita, perché sostanzialmente 20 anni sono un pezzo troppo grande di un'esistenza. Abbondante, e poi per quel che mi riguarda sono anche gli anni più importanti, perché dai 25 ai 45 sono gli anni in cui uno si forma. Perché tu avresti 45 anni. No, ce n'è qualcuno in più. Ma nella realtà lui continua ad avere 20 anni, non lo sa, ma noi non glielo diciamo, non vogliamo che si impressioni, perché il ragazzo è molto sensibile, perché non vogliamo che rimanga impressionato. Rimanga impressionato, ragazzo, che innanzitutto i nuovi episodi di Montalbano li vediamo da marzo. Sì, dal 9 marzo ci sono questa volta eccezionalmente invece che due, tre episodi. Tre episodi, stabilito che ogni volta che c'è la replica si rivede. Sì, al netto ve le repliche, questi saranno nuovi. Questi saranno nuovi di zecca, ma Paolo Borsellino, distretto di polizia, squadra antimafia, parermo oggi, solo, cado dalle nubi, noi credevamo. Cioè la tua capacità, l'attore di in fondo è questo, è quel volto prestato al saper essere chiunque. Davvero nella lista che ho letto all'inizio, insomma tu hai ripartito da tutt'altra idea, no? Architettura. Sì, diciamo io ci ho messo un po' a capire cosa volevo fare da grande, quindi ho fatto il conservatorio perché pensavo di voler suonare, poi invece non ho suonato. Poi ho fatto architettura perché pensavo che in qualche modo potesse essere una strada possibile e non lo è stata. Poi ho fatto l'accademia e anche lì non è che ero certo, e invece poi quella cosa lì mi ha preso, diciamo, completamente. Con buona pace del conservatorio e della facoltà di architettura. Non so se abbiamo perso un grande maestro di musica o un grande architetto, però sicuramente abbiamo guadagnato un attore con i fiocchi. Nei tante note insomma che ci sono su di te, tu fino a quasi vent'anni hai aiutato i tuoi genitori a lavorare la terra, cioè questa tua radice così bella e così forte, così importante, come si vede nel tuo modo di essere poi? Sì, probabilmente, diciamo, io sono figlio di una famiglia, diciamo, contadina, sotto proletaria. Questi sono i tuoi genitori? Sì, quando erano molto giovani. A papà praticamente tu hai staccato la testa, no? Sì, ci assomigliate molto. E quindi di conseguenza facevo, diciamo, andavo a scuola, però poi tornato da scuola, eccetera, facevo la vita che si fa in campagna. Noi avevamo gli animali, avevamo diversi ettari con coltivazione di grano, di mais, di erba medica e via dicendo, frutteti, la vigna, insomma. E cosa si impara da una collaborazione con la propria famiglia così importante? Qual è la lezione che a quell'età così giovane, quando tornando da scuola... Diciamo che quel mondo lì, se poi messo in parallelo col mondo nostro, dello spettacolo e delle cose, risulta essere, diciamo, come insieme di valori, di prospettive, esattamente l'opposto. Nel senso che in quel mondo ci sono valori molto solidi, che sono legati alla persona, sono legati al rapporto che si ha con l'altra persona e con la terra e con il tempo e con tutta una serie di cose che sono, diciamo, solide. E quindi io vivo un po' questa specie di conflitto tra due mondi che sono molto lontani l'uno dall'altro, però devo dire che sono riuscito a trovare serenamente un equilibrio, nel senso che quella parte lì per me è fondamentale. E credo che quella parte ti abbia insegnato, ti abbia dato tanto e continuo a dartela perché... Una delle prime cose... Sì, poi mi interrompo. Una cosa che mi ha stupito, io ho mandato un messaggio a Peppino Mazzotta e mi aspettavo come minimo un parli con la mia agenzia piuttosto che... E abbiamo ricevuto e ho ricevuto un messaggio di squisita gentilezza ed educazione. Credetemi, merce rara. Quindi grazie. Grazie davvero. Ci fermiamo solo per un attimo, sì. Ci fermiamo solo per un istante, però torniamo subito immediatamente. Prima di subito. Grazie. Un'ora molto, molto, molto solare. Grazie a Peppino Mazzotta. Ancora una volta, grazie. Applausi a Scena Aperta, a cui lui è assolutamente abituato. Un ragazzo che viene dalla Calabria sul set calabrese di Anime Nere, per il quale ottiene una candidatura ai Nassi d'Argento come miglior attore protagonista. Ora, esatto. Ora, che film è stato quello? Difficile, cominciamo col dire complesso. Sì, un film difficile perché era complesso anche da girare. Però, secondo me, il regista di Anime Nere, che è Francesco Munzi, è uno dei talenti più brillanti che abbiamo in questo momento in Italia dal punto di vista cinematografico. Ed è riuscito a fare un film in cui doveva raccontare una cosa complicatissima, cioè cosa c'è dietro la cronaca della malavita calabrese. La cronaca la conosciamo, quindi ci sono gli omicidi. Però dietro questo c'è una cultura, in alcuni casi una sottocultura molto solida. E lui ha voluto affrontare questa sfida e devo dire che ci è riuscito perfettamente perché da calabrese posso dire che lui è riuscito a raccontare una serie di cose che fanno parte di un non detto, che però incide molto su quello che poi accade in quei posti. E questa cosa qui mi ha da subito colpito quando ho letto la sceneggiatura. E poi mentre giravamo mi rendevo conto che quelle cose che erano scritte, erano state colte nella scrittura, venivano poi rappresentate benissimo. E il film è un grande film, secondo me, dal punto di vista cinematografico, ma è anche un documento antropologico che non esisteva prima su quel tipo di realtà. Con un valore in più, se me lo permetti, che è la non mitizzazione del cattivo. Nel senso che per il solo fatto di avere la storia e la camera puntata addosso, chiaramente si parla di quel personaggio, di quei personaggi. Quindi la capacità di raccontare azzardo, il vero, la verità, nonostante la finzione cinematografica. Ma quel film uscì nel 2014, quando erano abbastanza vive delle polemiche che arrivavano sui crime, che parlavano di mafia, dicendo che non si può trasformare i criminali in una sorta di eroi, perché poi dopo questo fa sì che le persone vogliano imitare. Nel caso di Annipendieri questa cosa non è successa, perché i personaggi sono stati raccontati in maniera così profonda e anche appunto, sì, con un grado di realtà molto forte e sono personaggi che nessuno vorrebbe imitare, nessuno penserebbe che come obiettivo per la sua vita essere uno di quei tre fratelli sostanzialmente. E poi perché è una storia in cui ci sono tre persone che appartengono a una famiglia che ha delle regole molto rigide e che fanno delle scelte e che poi pagano per le scelte che hanno fatto. Raccontare la verità, questo è il senso. C'è, prima di arrivare all'ultimo lavoro teatrale, oltre al fatto che Pepino Mazzotta cura la direzione artistica del Riace in festival e quindi c'è questo forte legame comunque con la tua terra che rimane e permane. E concorso cinematografico sul tema delle emigrazioni, tu collabori anche con l'osservatorio antimafia, quindi sai il tema dei migranti è un tema molto... Eh beh, sì. Vivo. Diciamo, acceso. Acceso e vivo. L'abbiamo detto in coro, che bello. e ha interpretato la figura di un emigrato calabrese, Giuseppe Zangara, giusto il nome? Giuseppe Zeta però nel testo. Nel testo. E sparò, tentò di uccidere il presidente Roosevelt, non riuscì, purtroppo arrivò ad uccidere il sindaco di Chicago, finì sulla sedia elettrica. Eccolo qua. E abbiamo chiesto proprio, ringrazio la mia redazione come sempre, perché volevamo vederlo negli occhi, questo uomo, che fece un atto sconsiderato. Ma arrivato perché? Arrivato fin lì perché? Ma Giuseppe Zangara era un calabrese che dopo una infanzia e un'adolescenza complessa con questo papà che insomma lo maltrattava pesantemente, decide, come tanti italiani in quel periodo storico, siamo negli anni 20, di partire con un bastimento da Napoli e andarsene in America. Partono in bastimento. Esatto. Arriva lì, fa qualche anno, quello che può, un po' l'operaio, un po' il muratore, insomma, eccetera, eccetera. Era analfabeta, quindi non aveva nessuna forma di cultura, però aveva una concezione anarchica dell'esistenza, anche se non sapeva esattamente cosa era l'anarchia. Cosa fosse essere anarchici. E a un certo punto, per tutta una serie di motivi, identifica nella figura di Roosevelt, che era tra l'altro stato appena eletto, il capo di questo modello di sviluppo, che lui chiamava capitalismo in maniera molto generica, che in qualche modo apprimeva i poveri. Lui era povero e si prende in qualche modo questo peso di rappresentare tutti i poveri in quel momento e decide di fare questa cosa molto eclatante, sostanzialmente. Certo, un gesto. Spara a Roosevelt, tra l'altro nel momento in cui, era la prima uscita pubblica di Roosevelt, prima che lui si insiediasse addirittura, però chiaramente nella folla non riesce a colpire Roosevelt e colpisce altre persone, tra cui il sindaco Chicago, che poi morirà. E per questo motivo poi lui viene messo a morte. Di fatto la cosa interessante che io, diciamo, ho messo a fuoco nel testo che ho scritto, non è tanto quella legata al suo tentativo di uccidere Roosevelt, ma a questo suo pensiero, folle per certi aspetti, no? Perché poi i semplici guardano il mondo in una maniera diversa da come lo guardiamo noi e ci danno l'opportunità di capire delle cose che altrimenti ci sfuggirebbero. E lui era uno di questi, aveva questa capacità di portare la logica fino all'estremo e quando la logica è portata fino all'estremo diventa paradossale e il paradosso ti fa capire che le cose non sono per forza come le vedi secondo un modello che tu conosci. Tu devi essere un maestro di teatro eccellente per i tuoi allievi. No. Eccellente? No, davvero? Perché spieghi la cosa e abbiamo visto la scena. Allora, la tournée toccherà, ovviamente le tournée fanno questo, se ne vanno in tanti, tanti posti, fino però al 15 dicembre all'Eliseo di Roma, l'onore perduto di Katarina Blum, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli, Venezia Giulia. E i tanti che lo hanno visto, i tanti che lo hanno applaudito, dicono andate a teatro perché è un bellissimo lavoro. Sì, diciamo, è un tema che è molto attuale, nel senso che la storia è ambientata nel metà anni 70, però tratta della questione legata all'uso dei giornali rispetto... Uso o abuso della notizia. L'abuso della notizia, cioè in questo caso c'è un giornalista che per vendere più copie, perché all'epoca c'era solo il cartaceo, non era come adesso, prende al volo questa vicenda che riguarda questa governante, la governante la manipola un po', la aggiusta, inventa, però riesce a ottenere i grandi risultati di vendita. E di più non diciamo... Rovinando la vita di questa persona. Vabbè, questo si può dire. Lo possiamo dire, ma insomma bisogna andarla ad applaudire a teatro, ma noi ne abbiamo una grande opportunità. applaudirlo in questo studio, mi ero anche fatta insegnare. Miscialai. E ride. Ah, allora l'ho detto bene, miscialai? Che significa mi sono proprio divertita. Peppino Mazzotta, grazie di essere stato con noi. Grazie, grazie. Con tutto il cuore, grazie, davvero. Per noi è stato un grandissimo onore, lo ripeto, perché quando si ha a che fare con un grande attore così, e ce l'hai in studio, allora vuol dire che la trasmissione è cominciata benissimo. Grazie, molti amici. Bravo. La notizia è che 150 anni fa nasceva la prima cartolina. Era un cartoncino emesso dalle poste dell'impero austro-ungarico, correva l'anno 1869. E insomma, da quel momento, più che mai, tutti i nostri viaggi hanno cominciato a correre sulla carta, anzi, su quel piccolo cartoncino che faceva sì che quando si riceveva la cartolina, no, si aspettasse così di vedere chi fosse ad averla scritta e che immagine ci fosse sulla cartolina. Attenzione, le cartoline esistono e come si esistono? Si mandano ancora? Per fortuna si mandano ancora. E c'è anche chi, per quanto giovanissima, come Mayla Cocci. Ciao. Ben trovata, Mayla. Grazie di essere con noi. Mayla Cocci è una insegnante e ideatrice di un diario molto speciale su internet, ovvero il blog Aspetto il Postino. Esatto. Perché? Aspetto il Postino nasce da una me bambina, in realtà, perché da piccola facevo la collezione delle cartoline perché non avevo molte possibilità per viaggiare, quindi l'unico modo che avevo per vedere posti nuovi... Il mondo, certo. Esatto, era ricevere le cartoline. E dopo un bel po' di anni, visto che siamo circondati e comunque sempre connessi, sempre... I tempi sono sempre più ristretti, abbiamo internet e la tecnologia in tutti gli aspetti della nostra vita. Ho pensato perché non fare un passo indietro e chiedere a amici e familiari di riniziare a spedirmi le cartoline. Senta, insegnante. Lei che cosa insegna? Faccio l'insegnante nella scuola dell'infanzia, quindi con i piccoli, da intanto i sei anni. E questa sua decisione è una decisione per la quale noi la ringraziamo tanto perché ha portato anche delle cartoline. Eccolo qua, le mostra direttamente la maestra Mayla. Sì. Ecco, guardi, quella è la sua camera. Perché, insomma, ricevere una cartolina come questa, con questo dromedario, chi è? È un soggetto. Sì, esatto, questo è un dromedario. Un dromedario. A seguire vediamo che cosa c'è. Abbiamo una... questa fa parte della mia vecchia collezione, che è la mia città, Empoli. Empoli. Esatto. Il Corcovado, quindi, Brasile. Questo è il Corcovado, quindi, Brasile. Sempre Empoli, vecchia collezione. Questa è la Croazia. Insomma, quando arrivavano e quando arrivano le cartoline, perché funzionano ancora, arrivano ancora, è una festa, diciamolo, perché è vero che attraverso Whatsapp, attraverso il telefonino, noi possiamo direttamente mandare sono qui, guarda, sono qui, ti sto pensando, sono qui, ma ricevere quel pezzettino di cartone col franco bollo è ancora un'altra cosa. E allora l'ora solare che cosa ha pensato? Anzi, ci ha pensato la nostra Antonella Ferrara, super Antonella Ferrara, che è ovunque. insomma, facciamo in tempo a vederla da una parte che si è già spostata dall'altra. In collegamento da Santa Maria Oe, siamo in provincia di Lecco, con Alessio Fumagalli, collezionista di cartoline, il primo in Italia e in Europa. Antonella, buongiorno, raccontaci tutto. Buongiorno Paola, buongiorno a voi. Io sono immersa in questa casa piena di cartoline. Ne vedete alcune, sono una piccolissima parte intorno a noi, vicino a noi, e sono tutte di Alessio Fumagalli, che è un collezionista e che ci dice adesso quante sono le cartoline che ha in casa. Perché queste sono una parte. Allora, queste qui sono una minima parte, perché in totale ne ho 622.000. Ma va bene! In poche parole, io ho iniziato che avevo 6 anni, avevo 6 anni, e con la prima mia cartolina me l'ha mandata un'amica di mia mamma da grado, ancora una cartolina in bianco e nero. È una cartolina che adesso non vediamo perché... perché è immersa in tutte le altre. Però, Alessio, secondo me ha senso dire che tu hai quasi vinto il record mondiale poco tempo fa. Non è vero, io un po' di tempo fa ho quasi vinto un record mondiale, ma non ci sono riuscito e voglio ricominciare. Senti, Alessio, poco fa mi dicevi che hai uno scopo, un obiettivo da raggiungere. Quante cartoline? Io voglio raggiungere l'obiettivo di un milione di cartoline, poi se ne arrivano di più... Bravo, bravo Alessio, bravo! La cosa bella è che io ho ricevuto tantissima solidarietà da tutto il mondo, non è che voglio farmi vedere, ma è la verità, da tutto il mondo, persone anziane, da Matera a Portici in Italia, signori di 98 anni, di 92 anni, che mi hanno dato cartoline parti della loro vita, dicendomi però non darle a nessuno, perché vediamo che tu ti crei un museo tuo a casa tua. Difatti io non do via neanche una cartolina. Ecco, in realtà, Alessio, tu sei custode delle cartoline che ti sono arrivate, però in qualche modo questa collezione l'hai costruita nel tempo. Raccontiamo com'è nata l'idea. Allora, è nata che quando andavo a scuola tutti i miei amici facevano la raccolta delle figurine del calciatore, o se no delle biglie di vetro, o i tappi delle bottiglie. Io ho cominciato prima con le figurine, poi dopo eravamo in tanti e si litigava sempre per il cambio del calciatore qua e là. Allora ho cominciato a fare la raccolta delle cartoline, dopo che è arrivata quella lì che gli ha mandato l'amica di mia mamma a mia mamma. Allora lì ho cominciato negli anni con i miei amici che andavano a militare e mi mandavano cartoline tutti i giorni. Poi quelli che andavano al mare, i miei parenti, i miei cugini e così. Questa passione per le cartoline, che è nata come dicevi, con questa prima cartolina dell'amica di tua mamma, in qualche modo si lega anche ad una tua voglia di viaggiare, mi dicevi. Sì, per me io viaggio, giro il mondo come ha detto prima la blogger, la signorina blogger, che giro il mondo con le cartoline. Non è che non abbia mai girato, ma con questo io tocco tutti i posti del mondo. Ogni tanto con mio padre che ha 87 anni, le tiriamo fuori, le guardiamo. Lui guarda sempre quelle di Vipiteno, Merano, dove ha fatto l'Alpino. Io invece guardo gli altri posti, isole a me strane. Ma bravo! Hai una ragione per cui tu ami viaggiare così, no? C'è anche un'invalidità che ti ha un po' ostacolato. Sì, e poi io ho avuto dei problemi di salute, siccome che sono invalido il 60%, a un certo punto ho dovuto anche smettere di muovermi qua e là. E sono sempre stato in casa. Ma adesso io negli ultimi anni ho frequentato tanto, perché su là c'è una persona speciale, a Trieste. E sulla Trieste mi aiutano tutti. mi hanno dato più di 182.000 cartoline. E mi aiutano tutte. L'altro giorno me ne sono arrivate 17.250. Ma una roba pazzesca, una solidità bestiale. Possiamo vederne qualcuna, Antonella? Tra le cartoline. Scusami, cara. Allora, quelle di Trieste ve le faccio vedere tra un po', che sono un po' particolari. Ma la prima cartolina, e anche quella è legata a Trieste, te la fa vedere adesso, Alessio? Me l'ha fatta vedere poco fa, per cui io la conosco. Questa è del 1888. È di Trieste. Non c'era ancora Franco Bolle. La signorina vicino a lei lo saprà. Tra le cartoline preferite, appunto, di Alessio, ci sono, mi diceva, quelle in un formato particolare. Vediamola, Alessio. A me piacciono molto quel formato qua. Eh sì. Questa del 1931, questa del 1916. A me piacciono tanto quelle in bianco-nero, piccole, grandi, 14x9, o cartolina normale bianco-nero. Mi piacciono tutte, per l'amor di Dio. Mi piacciono tutte. Però queste sono quelle che mi piacciono più di tutto. Allora, mi diceva Alessio. Antonella, dimmi ancora, poi ritorniamo un attimo da Maile e poi ci ricolleghiamo con voi. Dimmi, Antonella. Vi faccio vedere soltanto una cosa. Diceva Alessio che ha un rapporto particolare con la città di Trieste, da cui ha ricevuto tantissime cartoline. Quella che vedete dietro di noi, questa enorme, è una cartolina. Che Alessio ha ricevuto, formato gigante, proprio dalla città di Trieste. Vabbè, ci voleva Meneghin come postino, però. Cioè, ci voleva un umone per consegnare una cartolona di queste dimensioni. Rimanete lì, Antonella Alessio. Fermi, fermi tutti. Allora, Maile, eccomi da lei. Adesso, ovviamente, chiedo, vi manderete cartoline con Alessio? Assolutamente, sì. Vorrei contribuire al raggiungimento del record dei primati. Ma in un giorno ricevi 17.000 cartoline. io voglio conoscere il postino del luogo dove abita, perché è un super lavoro. Ma veniamo al blog. Allora, perché creare questo blog Aspetto il postino? Aspetto il postino è nato soprattutto per mettermi in contatto con le persone e riuscire a riappropriarsi del tempo, che è quello che ci sfugge. Quindi in quel caso un buon uso di internet nel senso che, no, insomma, si gira dall'altra parte la cosa e quindi si ottengono... Esatto, non sono per forza in conflitto le due cose, la tecnologia e il tempo. Assolutamente, assolutamente. Anzi. E quindi c'è addirittura, per Maile, una storia di... dico addirittura, si è creata una storia di amicizia tra patiti delle cartoline che sta portando ad un viaggio. Esatto, perché a breve, il 27 di dicembre, partirò per la Georgia e tutto è nato... Questo viaggio è nato attraverso Aspetto il postino, quindi mettendomi in contatto con le persone e così... Quando si riceve una cartolina, Maile? Io credo che tutti, tutti noi, tutti noi ce lo ricordiamo e sappiamo che cosa voglia dire. Per ce lo ricordiamo intendo dire quando aspettavi quella cartolina e arrivava, era un... E poi la cartolina è pubblica, no? Perché tu leggi quello che c'è scritto sopra, eppure quel messaggio era un abbraccio, insomma, e quel messaggio costituisce ancora oggi un abbraccio. Assolutamente sì. Lei lo insegna ai suoi bambini? Certo. Che mandare cartoline è una cosa bella? Certo, cerco di passare ovviamente il messaggio anche ai più piccoli, perché chiaramente si parte dai più piccolini. Dai più piccolini, insomma. Perché mandare una cartolina è... Innanzitutto è ti ho pensato. Assolutamente. Questa è la cosa. Io voglio, non lo faccio mai, ma dedico questa parte di puntata a mia sorella, e lo dico con questa faccia, perché mia sorella non facciamo neanche in tempo proprio a scendere dalla macchina, appoggiare giù le valigie, le cartoline! Lei... Immediatamente spedire! Insomma, che è anche un lavoro, no? Ci si mette lì a scrivere, è un impegno. Presuppone tanti passaggi, non è solo fare una foto e spedirla. Non è solo fare la foto e spedirla. Allora torniamo da Fumagalli e dalla nostra Antonellina Ferrara, perché quali, oltre a quelle cartolone che avete alle spalle, intanto abbiamo deciso, scambiamo gli indirizzi, eh? Sì. Ovviamente, di Aspetto il Postino con il nostro ospite, ma dove si mandano queste cartoline, Antonella? Intendi dove le possono mandare per Alessio? Sì. Adesso facciamo dire l'indirizzo. Alessio, facciamo l'indirizzo a cui si possono mandare le cartoline. Allora, in poche parole, il mio indirizzo è Fumagalli Alessio, Via Vincenzo Monti, numero 2, Santa Maria Oe, provincia di Lecco, 23889. Se siete dei mostri di bravura, avete registrato tutto diversamente e noi siamo pronti a darvi l'indirizzo. Vai Antonella, chiudi tu. Ecco Paola, volevo dirti che parlavate di solidarietà, di questi gesti di affetto, che la cartolina in qualche modo richiede. E quindi gesti di affetto ne abbiamo tantissimi, ma ci sono delle cartoline che sono arrivate ad Alessio da tutte le parti del mondo e alcune che lui stesso si è chiesto dove fossero perché non lo sapeva. Ma in particolare ce n'è una che lo ha colpito. Qual è, Alessio? Allora, quella che mi ha colpito più di tutto è quella che mi aveva mandato padre Fausto Tentorio, che è stato assassinato nelle Filippine, che è nato nel mio paese. Penso che lo sapete chi è perché era conosciutissimo. Adesso non ce l'ho qua perché è immersa in tutte le altre cartoline. È una di quelle che ho più a cuore. Poi c'ho a cuore questa cartolina anche, che è quando hanno abbattuto il muro di Berlino. Ci sono all'interno della cartolina dei pezzetti di muro. E questa è la cosa che ha colpito di più. Questa me l'ha mandata una ragazza in una busta che il mio sindaco aveva pubblicato sui social network per aiutarmi a far arrivare cartoline. Il mio sindaco si chiama Efra in Brambilla. E questa ragazza mi ha mandato questa cartolina e altre. tra cui queste qua colorate ad acquarello. Ma che belle! Che sono bellissime. E poi tante che ne ho che a me piacciono moltissimo anche queste sono in sughero dalla Sicilia alla Sardegna alla Calabria, alla Puglia. Ma che bravo! Più che altro sono dei paesi della bassa Italia. Che collezione! Allora in un minuto, Antonella! Sì, le cartoline sono bellissime ce ne sono anche da tutta Italia mi dicevi. Sì, tutti i comuni d'Italia. Perché Alessio ha ricevuto una donazione particolare da parte di una persona. Io ho una persona di Milano, Giacinto Comi che lui fa la raccolta di tutti i comuni d'Italia e me li ha dati di tutti i comuni d'Italia sia colori che in bianco e nero e mi sta aiutando tuttora. E poi con altre persone guardi, se dovrei ringraziare tutti qui non ci diamo più. Lo immagino. Non resta che far chiedere ad Antonella di fare per noi, per tutti noi dell'Ora Solare la consegna della nostra cartolina. Faccio io per voi perché allora prima vi dico che Alessio mi ha raccontato che il suo sogno sarebbe quello di fare un museo di realizzare un museo. Allora noi speriamo che sia per il record mondiale sia che per il tuo museo possa arrivare anche la cartolina dell'Ora Solare. Grazie a tutti. Abbiamo... Abbiamo... È una cartolina che arriva... è una cartolina che arriva da Torino perché io sono stata in trasferta e quindi l'ho presa assolutamente e dietro abbiamo fatto una dedica con il sole dell'Ora Solare. Assolutamente. Grazie di cuore a tutti, a voi, alla redazione e soprattutto a voi e alla Antonella. Grazie alla nostra Antonella, grazie Antonella Ferrara, grazie davvero. Grazie signor Fumagalli, grazie Mayla. Allora noi ci fermiamo soltanto per un attimo ma magari vi suggeriamo un'idea anche dal luogo, proprio dal luogo dove voi abitate. Più tardi uscite, prendete una cartolina e speditela. Dico bene Mayla? Assolutamente sì. Può essere un'ottima idea, ci vediamo tra un attimo. Grazie. Grazie mille. È tornato a trovarci il nostro Don Stefano Cascio, bentornato, parroco della chiesa di San Bonaventura da Bagnoreggio di Roma e nostra guida, per nostra fortuna, durante questo tempo dell'Avvento. Allora siamo, ci stiamo avviando la terza domenica, 15 dicembre. Una domenica particolare. Perché? Ci vestiamo di rosa. Perché? Ecco, queste le spiegazioni di Don Stefano. Perché? È la domenica gaudete, cioè rallegratevi, perché Natale è vicino, quindi sia in Quaresima che in Avvento c'è questo momento, una domenica in cui dal viola si passa a rosaceo, così. Il termine è questo qua, è una sorta di rosa, perché si mette una punta di bianco nel viola, capito? Perché poi a Natale ci vestiamo di bianco e quindi si capisce che ci avviciniamo, insomma. Sta accadendo. Non vi stancate di questo momento più difficile che è l'Avvento e la Quaresima che sono quelli di preparazione perché arriva la festa. Allora, arriva la festa e domenica ascolteremo quale Vangelo? Domenica ascolteremo un Vangelo su Giovanni il Battista che è una delle figure abbiamo visto Maria domenica scorsa, questa volta ci abbiamo Giovanni il Battista sul nostro cammino. Giovanni che era in carcere avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete i ciechi riacquistano la vista gli zoppi camminano i lebrosi sono purificati i sordi odono i morti risuscitano ai poveri è annunziato il Vangelo e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo mentre quelli se ne andavano Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle che cosa siete andati a vedere nel deserto? una canna sbattuta dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? un uomo vestito con abiti di lusso? ecco quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re ebbene che cosa siete andati a vedere? un profeta? sì io vi dico anzi più che un profeta egli è colui del quale sta scritto ecco dinanzi a te io mando il mio messaggero davanti a te egli preparerà la tua via in verità io vi dico fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista ma il più piccolo nel regno dei cieli è il più grande di lui allora Don Stefano qua ce ne sono tante di cose da dire da sottolineare c'è quella domanda sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro che implica in sé il dubbio brava il dubbio la domanda del Battista che fa fare ai suoi discepoli è ma sei tu quello che deve venire cioè il messia l'unto del signore quello che gli ebrei aspettavano da sempre quindi questo dubbio secondo me è importantissimo io quando sto con gli adolescenti cerco di metterli in difficoltà perché a me non mi interessa ragazzi che mi dicono a memoria il catechismo bravo io voglio persone che hanno la fede cioè qualcuno che ha riflettuto che ha cercato quindi il dubbio ci serve a metterci in cammino a cercare le risposte non fermarti è vero un dubbio è bello è importante cerca la risposta però purtroppo molte volte la gente rimane in questo dubbio e non va a cercare a chiedere e questo è triste il dubbio ha senso se noi poi diventiamo cercatori di una risposta cercatore di Dio è quello che è l'uomo perché è un cercatore di Dio è quello che dovremmo essere più che mai tutti noi allora sempre con il nostro Don Stefano vi portiamo all'Angelus dell'11 dicembre 2016 le parole di Papa Francesco nella terza domenica di Avvento ecco cosa dice Gesù a questi messaggeri i cecchi riacchistano la vista gli sopi camminano i lebrosi sono purificati i sordi odono i morti risuscitano non sono parole sono fatti che dimostrano come la salvezza portata da Gesù afferra tutto l'essere umano e lo rigenera Dio è entrato nella storia per liberarci dalla schiavitù del peccato ha posto la sua tenda in mezzo a noi per condividere la nostra esistenza guarire le nostre piaghe fasciare le nostre ferite e donarci la vita nuova la gioia è il frutto di questo intervento di salvezza e di amore di Dio allora Papa Francesco l'avete sentito sottolinea il fatto che i cecchi riacquistino la vista i sordi riescono a sentire sono fatti e non parole e questo è tanto ovviamente uno stesso sì Paola però devi sapere che questa frase detta da Gesù non è una risposta così lui riprende la prima lettura che avremo domenica e cioè Isaia è proprio un brano di Isaia questo che Gesù riprende perché Gesù conosceva bene la scrittura la cita e perché cita questa scrittura infatti è collegato al Messia sempre però se ti rendi conto Gesù non risponde direttamente alla domanda sì sono io lui dice guardate intorno e vedrete e cita questo brano di Isaia che annuncia il Messia ci sta dicendo aprite gli occhi spalancate il vostro sguardo guardate attorno a voi la presenza di Dio quello che sta dicendo a Giovanni e ai suoi discepoli lo sta dicendo a ciascuno di noi certo nei momenti anche di dubbio cioè noi siamo e l'abbiamo detto spesso qua noi siamo quelli che ci chiudiamo sempre su noi stessi il Vangelo ci ci obbliga ad aprirci e Gesù questa volta ci ridice spalanca il tuo sguardo guarda attorno a te la gente che si converte la gente che riesce a perdonare la gente che è un dolore grandissimo e invece diventa una luce una speranza per gli altri come no io li ho conosciuti da prete ho visto questo li vedo vedo queste cose che sono fatti che sono fatti quindi è riacquisire quello che si pensava perduto per sempre quello è un fatto l'uomo ha bisogno di fatti l'uomo ha bisogno di toccare ma se non guarda se non sta attento a queste cose non guarda c'è la domanda fatta da Gesù che cosa siete andati a vedere e questa è la terza parte hai ragione che cosa siete venuti a vedere questo lo dice quando i discepoli di Giovanni sono andati via quindi lo sta dicendo alla folla che è attorno a lui ma che cosa siete venuti a fare qua questo Giovanni che vi attira tanto perché siete venuti a trovarlo e questa domanda la sta facendo a noi nel nostro cammino cosa stiamo facendo perché veniamo in chiesa perché andiamo a messa guarda io quando vedo i miei ragazzi quando sono in parrocchia tante volte io so benissimo che chi c'ho davanti non sono tutti credenti certe volte si viene solo perché la parrocchia è il luogo dove sto da quando sono piccolo io penso ai miei ragazzi i miei ragazzi abitano lì vivono lì da sempre potrebbe essere un centro sociale forse sarebbe la stessa cosa quindi il nostro tu sei sempre trasparente quando parli questa è anche proprio la tua bellezza il nostro ruolo da educatori da catechisti è cercare di dare Gesù non solo l'ambiente io devo essere certo che tu vieni perché cerchi Cristo non solo è normale tu hai gli amici sei cresciuto qua va benissimo è bello anche questo ma non basta la parrocchia è il luogo dove tu devi incontrare Gesù e io da prete è la mia missione ti devo portare Cristo devo essere abbastanza trasparente per fare trasparire Cristo attraverso di me se no se no parlo di me stesso se no Don Stefano abbiamo aperto con l'importanza del dubbio in questo tempo di attesa e invece stiamo appena dicendo devi essere sicuro di quello che vai cercando quando entri nella chiesa esattamente perché devi sapere che cosa cerchi perché vedi come conclude Gesù dice Giovanni è il più grande tra i figli due ma è il più piccolo nel regno dei cieli perché noi che siamo battezzati siamo stati battezzati in Cristo noi dobbiamo diventare segno di speranza lui la speranza l'aspettava noi siamo segni di speranza cosa ci manca se non quel dubbio ritorniamo al dubbio no non ci manca solo il dubbio ci manca lo sguardo aperto ci manca il cuore aperto ci manca questa libertà che Cristo ci ha insegnato Cristo è venuto a dirci ecco che io sono l'uomo e c'è uomo questo è l'uomo l'uomo come dovrebbe essere il nuovo Adamo noi diciamo che Gesù è il nuovo Adamo no Maria è la nuova Eva Adamo ed Eva si sono persi perché non per disobbedienza perché forse la gente non lo capisce neanche più ma semplicemente perché non ha più la fiducia in Dio hanno perso quella fiducia ecco noi torniamo al dubbio il dubbio ci deve portare a un certo momento alla fiducia cioè a un certo momento la fede la faccio mia questa è la risposta alla mia vita mi dà senso alla mia vita e quindi se senso alla mia vita tutto cambia il mio modo di vivere di essere e se tutto cambia divento speranza per gli altri come lo sono stati tanti santi nella storia assistere partecipare alla messa e alla messa e poi non deve essere un obbligo deve essere una voglia all'uscita applicare tutto questo quella è la parte vai in pace quando si dice la messa è finita non si dice la messa è finita andate a dormire si dice la messa è finita andate in pace ma questa pace è portare pace agli altri glorificate il Signore con la vostra vita andate in pace queste sono le cose è un mandare in missione non è un andare a riposare si è un mandare in missione ogni domenica e guardate c'è sempre un problema con Stefano Cascio io vorrei che poi ci fossero altri 40 minuti e poi altri 40 per dialogare ancora ma è finita ma aspettiamo il prossimo venerdì però va bene il prossimo domenica grazie grazie allora come sempre la possibilità di stare tutti quanti insieme con un abbraccio corale generale vi ricordo tra poco la recita della coroncina alla Divina Misericordia poi siamo noi l'ora solare ritornasi lunedì alle ore 14 ma c'è sempre il sabato dell'ora solare alle ore 19 noi ringraziamo Don Stefano per essere stato con noi davvero grazie e ci vediamo ci vediamo e buona terza domenica di avvento a tutti noi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti